Do comunicazione della votazione, hanno votato 23 commissari su 40 con 0 voti contrari, 22 voti favorevoli e una scheda bianca. Pertanto la Commissione non approva la proposta medesima. Informo quindi che come disposto dall'articolo 12b scoma 3 dell'esito della votazione darò immediatamente notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Amministrazione della RAI.